Verso le elezioni politiche, domenica 25 settembre si vota dalle 7 alle 23 per il rinnovo del Parlamento. La legge elettorale mista, due terzi dei parlamentari sono eletti con metodo proporzionale sulla base dei voti raccolti dalle liste in collegi che riguardano più province. Un terzo invece sulla base di un sistema maggioritario, secondo il quale stacca un biglietto per Roma il candidato che ottiene la maggioranza dei voti in un determinato collegio. Una sfida per la Camera che per quanto riguarda gli elettori sondresi si gioca in tutti i comuni della provincia più una parte di quelli della vicina provincia di Como. Nove candidati in corsa, la coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati candida al ministro allo sviluppo economico uscente Giancarlo Giorgetti Valchiavennasco d'adozione per via dei suoi legami familiari con Gualdera di Frasciscio, frazione di Campodolcino. La coalizione di centrosinistra formata da Alleanza Verdi e Sinistra, Pio Europa, Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista con Di Maio e Centro Democratico candida invece Valeria Caterina Duico, originaria di Teglio e direttore della Fondazione Credito Valtelenese. Il terzo polo, Alleanza fra Italia Viva e Azione, candida il primario di Oncologia dell'ospedale di Sondrio Alessandro Bertolini. Il Movimento 5 Stelle presenta invece Luca Sangagli, attivista e impiegato presso l'ospedale di Sondrio. Carlo Trottagli è candidato per vita a formazione politica fondata dall'onorevole Sara Cunial e dal consigliere regionale del Lazio Davide Barillari. Italia sovrana e popolare, lista promossa dall'onorevole Marco Rizzo, candida invece la varesina Daniela Mosca. Il chiavennasco Cristian Pavioni è invece in corsa per l'unione popolare, movimento fondato dall'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Chiudono le candidature per la Camera nel Collegio di Sondrio Angelo Beltrama, che correrà per la lista Noi di Centro, promossa dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, e Francesca Losi, candidata di Talexit, movimento lanciato dal giornalista Gianluigi Paragone.